Buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento il quindicinale la mia trasmissione ringrazio ora di Osayus che mi dà la possibilità di esprimere le mie opinioni che poi non sono mie perché non ho una grande mente ma sono semplicemente posizioni che i compagni quelli più grandi di me avevano e danno un'indicazione di come leggere le cose che accadono in questo societario non faccio niente anche che riproporle e l'altra volta non siamo andati in onda perché il tecnico dirà di Osayus a tutti i problemi diciamo di pronta guarigione di cosa parliamo? parliamo questa sera di due argomenti uno riguarda le elezioni appena passate le elezioni europee del 26 maggio che hanno dato un'indicazione molto importante poi viene ripetuta anche queste indicazioni sono state ripetute ieri dai risultati delle elezioni di valutaggio per alcuni comuni italiani vorrei iniziare con una citazione con una citazione di Carlo Marx che è di questo genere che analizzando la forma della società capitalistica Marx afferma che essendo il suicidio contro natura lo Stato, quindi il nostro Stato, lo Stato borghese è costretto a non credere nella propria impotenza a soddisfare i bisogni dei cittadini esso, quindi lo Stato, può ammettere solo piccoli difetti formali dovuti al caso e cercare di rattoppare se stesso e siccome i rattoppi si dimostrano quasi sempre peggio del buco lo Stato attribuisce i propri difetti non a se stesso cioè al sistema ma a qualcosa di esterno ad esempio i cittadini che disobbediscono alle regole questi cittadini tartassati dallo Stato strillano contro le limitazioni della libertà ma strillano anche contro gli effetti della libertà è un circolo vizioso senza via di uscita da qui il rapporto Stato e cittadini ne esce lacerato è quindi la citazione è questa lacerazione, questa infamia, questa schiavitù della società civile sono il fondamento naturale su cui poggia lo Stato moderno così come la società civile della schiavitù era il fondamento naturale dello Stato antico cioè dello Stato feudale l'esistenza dello Stato e l'esistenza della schiavitù sono inseparabili ecco quindi il fatto di andare a votare vuole dire dare l'illusione ai più che c'è qualcosa che non va basta all'interno dello Stato basta cambiare qualcosa basta riformare qualcosa e tutto potrà andare nella giusta direzione potrà rendere felici tutti mai toccare però il sistema il sistema dello sfruttamento il sistema che si basa sul lavoro salariato ecco basta fare qualche rattupo e tutti quei partiti di estrema sinistra che ci vengono a predicare votate perché quando sarò io nella stanza dei bottoni le cose potranno cambiare l'importante è che voi date più voti a me quindi a me come partito ci sono dei partiti che si definiscono comunisti nella loro dicitura e vedrete che le cose cambiano cosa volevo dire? volevo dire che in Italia per esempio nelle ultime votazioni europee in Italia su 49 milioni e 300 mila aventi diritto i votanti sono stati sono stati il 56 e 4 per cento poi ci sono le schede nulle che sono 576 mila quindi gente che è andata a votare le schede bianche sono 410 mila quindi schede nulle più quelle bianche sono più di 900 mila si sfiora il milione e poi abbiamo gli astenuti che sono 21 milioni 476 mila 672 il ben 43,71 per cento quindi quando la lega di Salvini dice che è vi canta la vittoria perché ha preso il 34,33 per cento è vero da una parte ma sono il 34,33 per cento del 43,71 per cento quindi dei 49 milioni sono 9 milioni 493 mila quindi quando si parla a nome degli italiani dobbiamo noi chi non è andato a votare chi non crede in questo sistema di miglioramento graduale della società ma crede che questa società non vada più bene così sulle fondamenta che si è posta deve sempre ricordare questo mentre i giornali e i partiti enfatizzano questi loro voti in realtà bisognerebbe sempre dirgli guarda che non c'è il consenso del cosiddetto popolo italiano è un fatto vero però che gli astenuti quelli che hanno votato schede bianche o hanno annullato la scheda non hanno un indirizzo diverso non hanno fatto non si sono fatti propri di certe idee di cosa vogliono e quindi questo gli fa da un certo numero di persone essere cosiddette amorfe e lo stesso dato si ripresenta anche prego la regia di metri in onda questo si ripete anche nelle votazioni fatte ieri per quanto riguarda i sindaci i ballotaggi dove si ripete il dato più o meno il 52 sono andate alle orne soltanto il 52% quindi abbiamo un ulteriore abbassamento dei votanti ma da dove si parte per capire come come bisogna valutare bene le votazioni allora io vorrei partire da molto lontano dalla frazione astensionista del partito comunista del 1919 lì dove si parlava di nuove si parlava finalmente della possibilità dopo l'uscita della guerra di andare a fare le elezioni e votare quindi per migliorare la situazione bastava creare il soffraggio universale quindi saremo entrati nella stanza dei bottoni ebbene la frazione astensionista del partito socialista del 19 questa frazione che faceva capo ad Amadea Bordiga che poi andò a fondare il partito comunista d'Italia nel 21 aveva già le idee molto chiare e cosa dice questo articolo? inizia così da parecchi anni questo è un articolo uscito sul Soviet era l'Org il 6 febbraio 1919 alla vigilia delle elezioni del 20 e cosa dice questo articolo? da parecchi anni e si può dire anzi fin da quando il partito socialista si è costituito un partito a sé staccandosi da altre frazioni democratoidi a cui veniva commisto ha svolto la sua azione politica seguendo il concetto teorico che la conquista dei poteri politici da parte del proletariato dovesse effettuarsi per via dell'azione legale elettorale non legale elettorale un calcolo abbastanza poerire il quale pure ha affascinato e affascina ancora non pochi oggi faceva ritenere che il giorno in cui si fosse ottenuto un vero suffragio universale per il quale tutti avessero il diritto di voto fatalmente la maggioranza delle assemblee legislative sarebbe stata costituita da rappresentanti socialisti i quali rappresentanti o deputati socialisti che si voglia riusciti a maggioranza avrebbero poi con una brava legge tranquillamente spazzato via i poteri borghesi e con tutte le debite e formalità legali si sarebbero in nome del proletariato impossessati del potere sotto questo affascinante miraggio ogni successo elettorale specialmente l'acquisto di un nuovo seggio al parlamento veniva in buona fede considerato e quindi esaltato come un nuovo passo innanzi verso la meta come una novella pietra posta al grandioso edificio della conquista dei pubblici poteri da parte del proletariato le cifre delle lotte elettorali permettevano con facilità a parecchi di fare l'ingrato mestiere di legislatori del futuro e di fissare la data precisa della scadenza della cambiale da pagarsi dalla borghesia verso il proletariato a molti la strana illusione di sentirsi più vicini al potere evento dell'affacciarsi del proletariato alla ribalta della storia vero padrone del mondo penso il fatto di apprendere che nella camera dei deputati era venuto un cabrini un bisolati o un turati o cicotti di più l'affermazione degli astensionisti dici povera rivoluzione proletaria il brevetto della notte a pantofole con tantino di reumatismo e qualche dente caduto la pratica dava continuamente delle delusioni incredibili il regime borghese malgrado lo sventramento e la imbottitura di questa pericolosa polpa rivoluzionaria pronta a scoppiare e capace di mandare in frantumi la vecchia crosta non soffriva anzi si rafforzava i bollettini rivoluzionari nell'ambiente borghese parlamentare si amansivano si addomesticavano dopo un po' di tempo l'uno di essi diventava riformista l'altro forcaiolo il terzo ministro e così di seguito il power proletariato almeno da la parte più cosciente di esso ha dovuto finire per convincersi che quando a grandi stenti fosse riuscito in un paese a mandare in un'assemblea legislativa la cifra fatale ossia la metà più uno dei componenti di essa tutti autentici fedeli i suoi sostenitori sarebbe rimasto l'ultimo con un buon palmo di naso quei formidabili rivoluzionari tutt'al più sarebbero capaci di regalargli una repubblica borghesissima di tipo americano o modello Frederick Ebert che fonda la sua precaria forza di resistenza sull'assassinio Chi era? Fa parentesi Friedrich Ebert Ebert era un giornalista nato nel 1905 fu deputato nel Regenstatt fino al 1919 e dicevo che nell'agosto del 14 Ebert convinse il suo partito a votare a favore del conflitto motivando il conflitto mondiale motivando la sua scelta come un gesto patriotico e una misura difensiva contro le minacce rivolte alla Germania la sua posizione a favore della guerra così come quella di un altro leader revisionista come Philippe Scheindmann recarano gravi spaccature nel partito partito socialista fino alla scissione di una sua parte che riede vita il partito socialdemocratico indipendente della Germania agli inizi del 17 nel corso della guerra quindi questo il partito socialista democratico guidato da Friedrich Ebert che era andato dentro la stanza dei bottoni nel corso della guerra si oppose sempre più alla politica imperiale che contrariamente alla sua iniziale convinzione non gli sembrava più mossa da necessità di difesa si mise in relazione con socialisti stranieri e presidette la delegazione tedesca al congresso socialista di Stoccarda quando la sconfitta della Germania pava inevitabile venne costituito un nuovo governo formato dal principe Maximilian Baden che incaricò Ebert e altri membri del partito socialista democratico di fare parte del ministero d'ottobre del 18 nominato cancelliere il 9 novembre dello stesso anno proclamò la repubblica assieme a Shedman 9 novembre e chiamò quest'ultimo alla presidenza del consiglio contrastò nel gennaio di 19 l'insurrezione dello spartachismo e che fu sconfitta grazie all'azione congiunta di Shedman e NOSC con il concorso di Fred Korps quindi questo questo padre del socialismo tedesco entrato nel Reichstag sconfisse gli spartachisti è la parte che conosce un po' della storia del socialismo di Rosa Lussemburg e Cardo Lievleck continuo e non potrebbe essere diversamente è assolutamente paradossale la concezione che le attuali forme politiche che furono create dalla borghesia per la propria dominazione di classe possono proprio essere divenire gli organi di una funzione assolutamente opposta se la borghesia dovete abbattere il vecchio regime creare nuove forme statali a maggior ragione dovrà fare con ciò il proletariato ben più profonda è la trasformazione sociale prodotta dalla conquista del potere del proletariato che abolendo la proprietà privata distrugge la classe borghesia precisamente da proprietari privati di mezzi a regolare organizzare disciplinare i nuovi rapporti sociali fondati non più sul diritto di proprietà privata ma sull'associazione dei lavoratori dovranno necessariamente sorgere nuovi istituti adatti a questa funzione così profondamente diverse da quelle che costituiscono i cardini dello stato borghese se l'immaturità politica l'eredità delle idee democratiche infiltratesi nel pensiero di alcuni socialisti se soprattutto la mancanza della realtà del potere hanno permesso il formarsi e l'accreditarsi di concezioni così erronee ora vi è la grande esperienza dei fatti che dovrebbe servire di insegnamento a tutti la campagna elettorale si approssima il partito socialista deve stabilire se si debba ad essa partecipare e con qual programma il proletariato non deve essere ingannato ed addormentato nella lotta elettorale esso deve convincersi della nessuna efficacia rivoluzionaria della conquista dei seggi al parlamento e deve conoscere qual è la via da percorrere in qual senso può rendersi utile del suo sforzo che se converga avere dei deputati socialista dovrà in buona volontà stabilire i limiti delle azioni e dei poteri di esse in seno al partito stesso il partito non ha come suoi organi che le assemblee che deliberano e la sua direzione che esegue e rende conto ogni anno del suo operato il gruppo parlamentare come tale cioè come gruppo non esiste per il partito in quanto la qualità del deputato del partito non esiste essa è qualità fatto borghese si ottiene con voti non iscritti al partito svolge una funzione estranea adesso e destinata a sparire appena il partito fosse riuscito ad effettuare il suo programma massimo della conquista del potere la direzione del partito attingendo dalla fiducia del partito le proprie energie deve affrontare le responsabilità che lo competono eseguendo la deliberazione del partito stesso interpretandone fedelmente lo spirito interpretandolo magari in qualche caso per referendum non è amissibile che la direzione per deliberazioni che impegnano l'azione del partito si rivolga per consiglio al gruppo parlamentare essa viene così implicitamente a riconoscere in esso un potere che non ha una funzione che è affatto inesistente questi rapporti è assolutamente indispensabile disciplinare ora specie dopo l'ultimo ordine del giorno presentato dal gruppo stesso di Turati ordine del giorno ha fatto contrario alle direttive chiaramente manifestate della grande maggioranza del partito se questa delimitazione dei rapporti dovesse provocare nuove sessioni tanto meglio il solito 9 febbraio 1918 bene se noi leviamo da questo articolo alcune cose superate il concetto è attualissimo il concetto delle elezioni non cambia e se voi osservate bene dall'interno del Parlamento anche chi guardate la fine che hanno fatto i 5 stelle che dovevano rovesciare tutto invece attraverso lo Stato si cautela attraverso leggi leggine vincoli accordi internazionali eccetera e quindi in qualche modo ha imbrigliato e ha è affermato questa azione fra virgolette rivoluzionaria che doveva essere quella del Movimento 5 Stelle quindi un augurio a tutti quelli che non sono andati a votare e che sono persi perché non sanno cosa cosa fare in queste in queste situazioni ebbene questa è un'indicazione ecco io ho detto che parlo per quel con la voce dei grandi del passato io non ho una grande non sono un grande sono solo uno che porta delle indicazioni che secondo me sono tutte sono attualissime chiudo questa parentesi per aprire un'altra un'altra sarò breve su questo ma dimostra ancora che quello che ho detto prima è validissimo ed è il fatto che è uscito adesso lo vedrete è uscito un rapporto che si chiama sentieri ed è studio che vuol dire una cronica che vuol dire studio epidemiologico nazionale e insediamenti esposti a rischio da inquinanti lo trovate sul sito che la regia ha appena messo in linea e vi consiglio di andare a vedere perché questo rapporto che è poi il numero di marzo e giugno del 2019 il sentieri ha questo obiettivo l'aggiornamento del programma di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati di interesse per le bonifiche ed è promosso il ministero della salute nel contesto di un'azione centrale del 2015 del centro per il controllo delle malattie questo rapporto rappresenta un ulteriore passo avanti del progetto iniziato nel 2006 quando si affrontò per la prima volta il tema del profilo di salute delle popolazioni residenti nei siti contaminati all'interno del programma strategico nazionale ambiente e salute coordinato dall'istituto superiore di sanità ISS ebbene quali risultati da? poi lì ci sono tutti i siti di interesse nazionale potete poi andare a vedere il vostro se ne avete quello di Marghera è interessante di Venezia comunque i risultati sono questi che alla luce dei risultati presenti in diverse schede vengono formulate raccomandazioni di sanità pubblica e suggerimenti di approfondimenti scientifici attenzione su 45 siti in 8 anni cioè dal 2006 al 2013 sono state rilevate complessivamente nella popolazione generale uomini 5267 morti in eccesso rispetto all'atteso per tutte le cause abbiamo un più 4% di 3375 morti in eccesso per tutti i tumori maligni per quanto riguarda gli uomini per quanto riguarda le donne abbiamo 6.725 morti in eccesso per tutte le cause e 1.910 morti in eccesso per tutti i tumori maligni nei 22 siti serviti dai registri tumori sono stati stimati in 5 anni periodo diversi a seconda dei registri nell'arco temporale sempre 2006-2013 1.200 nuovi casi di tumori in eccesso per quanto riguarda gli uomini mentre per quanto riguarda le donne ancora di più 1.425 nuovi casi di tumori maligni in 28 siti serviti da 22 registri tumori e 8 registri tumori infantili periodi diversi a seconda dei registri nell'arco temporale 2006-2013 sono stati osservati 1.050 nuovi casi di tumori maligni in bambini adolescenti e giovani adulti cosa c'entra questo con le lezioni? perché uno dei grossi punti che il Movimento 5 Stelle è andato al governo e ha preso la fiducia delle persone era quello della chiusura del sito di Taranto dove venivano dati alcuni dati di morti da tumore o malformazioni eccetera e vedete, lo state vedendo che l'ILVA sta ancora producendo non si vuole chiudere e a fronte della superiorità della vita dell'uomo che viene così detta in generale le persone stanno ancora morendo allora nel periodo lungo di 14 anni da 2002-2015 parlo di Taranto sono stati osservati 600 nati con malformazioni congenite e 25.853 nati da donne residenti nei comuni di Taranto estate il comune estate no estate e state dei due comuni questi casi che sono stati rilevati mediante un'analisi specifica nelle schede di dimissione ospedaliera effettuati in ambito sentieri sono risultati il 9% in più rispetto agli attesi sulla base di un tasso regionale in parole più semplici 50 casi in eccesso quindi una media di 3-4 casi in più ogni anno e questa è la situazione reale dove questo sistema basato sul profitto e sulla concorrenza non ha per niente a cuore la specie umana la specie umana con tutto l'ambiente che ci sta attorno ma solo a cuore il profitto rendersi conto di questo rendersi consapevoli di questo e attuare quanto detto prima sulle elezioni ci aiuta a capire anche la strada da intraprendere per cambiare le cose anche per questa puntata il tempo mio a disposizione è scaduto ringrazio grandemente Radio Saiso che mi permette di portare a conoscenza queste cose anche se magari qualcuno le sa le sapeva già vi saluto e ci vediamo e ci sentiamo la prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti